Sicuramente è una partita non giocata con le marce altissime, però questi sono i playoff. Si gioca con la tensione, si gioca con qualche errore. Questa è solo la prima però. Anche nel terzo set avete avuto in una sola azione tre occasioni per chiudere, non l'avete scontato e poi in modo in aria approfittata, è normale. Il terzo set abbiamo avuto almeno dieci occasioni di contrattacco, a volte di palla alta, a volte con palla più semplice e non l'abbiamo messa per terra. A volte pretendiamo forse troppo da noi stessi perché non so quanto ci faccia bene guardarci allo specchio e vederci così belli, dobbiamo imparare. Allora il clima pre-offre è questo, anche se non siamo belli dobbiamo vincere nonostante tutto, quindi l'importante è solo il risultato. Siete partiti molto male in battuta, poi siete cresciuti nel quarto sette decisiva. Sì sì, abbiamo fatto stranamente, ci sono sette troppo timidi, poi ci hanno condizionato il primo sette in cui ne abbiamo sbagliate nove, però lo spirito di scresco a squadra è quello di essere aggressiva. Quindi sopportiamo qualche errore a patto che poi ci ritorni indietro qualcosa, sempre da questo servizio, altrimenti non ne vale la pena. Non bisogna fare mercoledì per andare su 1-1. Vincere, naturalmente vincere. La serie è apertissima, sarà entusiasmante, è esattamente quello che ci aspettavamo. Chiaramente era meglio vincere che perdere, ma la serie è tutt'altro che chiusa. Grazie.